Presidente Conte, benvenuto. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Abbiamo parlato fin qui, abbiamo visto la segretaria del PD Schlein, il ministro Salvini, abbiamo parlato più volte di riforme. Vorrei partire da lì anche con lei, soprattutto anche vista la sua storia, la competenza specifica parlando della riforma presentata dal ministro Nordio. È vero che ci potrebbe essere una parte delle opposizioni che accetta di votarla e lei che cosa pensa di questa riforma e del nodo, per esempio, della separazione delle carriere? Io penso questo, che ai cittadini che ci seguono interessa il miglioramento del servizio giustizia, il che avviene penso anche agli imprenditori, agli operatori economici. E questo può avvenire soltanto investendo di più, come abbiamo iniziato a fare noi col mio governo. Questo significa più magistrati, più personale ausiliario, più dotazioni informatiche. Altre strade, come questa della separazione delle carriere, non portano al miglioramento del servizio giustizia. È un vecchio piano di Licio Gelli della P2, piano rinascita, che semplicemente vuole ottenere di poter in prospettiva arrivare a mettere le procure sotto il controllo del potere esecutivo, del governo e quindi il ministro di giustizia di turno. Perché, vede, già oggi non c'è questo passaggio di cui parlano. Può avvenire solo una volta e avviene rarissimamente che un PM, pubblico ministero, diventi giudicante o viceversa. Quindi non è questo il problema della giustizia, è proprio un fatto oggettivo, statistico. La loro prospettiva invece, ecco perché siano contrarissimi, fermissimamente contrari, la loro prospettiva è di controllare le procure, le inchieste danno fastidio ai politici da sempre e lo dimostra anche il fatto che, oltre a questa separazione delle carriere, stanno pensando a limitare l'uso delle intercettazioni. Vogliono vietare il Trojan per quanto riguarda i casi di corruzione, vogliono addirittura la legge Bavaglio per i giornalisti. Cioè è la vecchia politica che ritorna alla grande con forza e come vuole risolvere tutti i problemi, gli scandali, il malaffare, la contaminazione tra politica e affari, mettendo ovviamente il Bavaglio ai giornalisti, la mordacchia ai giudici. Quindi secondo lei non è emendabile nei fatti perché Nordio, che più volte è escluso che sia un tema di controllo politico, poi dice ragioniamo... Ma come l'ho escluso? Stiamo andando in quella direzione. Voglio dire, emendabile cosa, se parliamo... C'è un problema, non è che la giustizia funziona benissimo, dobbiamo abbreviare i tempi, dobbiamo investire. Non c'è dubbio. Poi sicuramente possiamo ragionare insieme ai giudici, ma insieme ai giudici, per rafforzare anche i poteri disciplinari che ci sono, perché se dei giudici sbagliano e questo ricade sui cittadini, possiamo discuterne. C'è un problema di associazioni, derive correntizie, parliamone, ma queste soluzioni che ci stanno portando non vanno in quella direzione. Sono solo uno specchietto per le allodole per i cittadini. È la reazione di una politica che non vuole essere giudicata dalla magistratura. Ecco, stiamo nell'ambito delle riforme. È chiarissima la posizione sulla giustizia, sulla questione del premierato, dunque, della riforma costituzionale. Lei la pensa allo stesso modo? È un nonetto? È una chiusura assoluta o si può discutere? Ma guardi, il tema è di fondo che ci hanno confezionato, Giorgia Meloni, non ci ha voluto ascoltare perché all'incontro solenne che lei ha voluto, io con il Movimento 5 Stelle ci hanno presentato con disponibilità a confrontarci. Non stiamo dicendo che non ci sono disfunzioni. Io sono stato presidente del Consiglio in due governi. Peraltro se il premierato passasse lei avrebbe enormi possibilità in questo momento. Ma io non faccio un discorso per Giuseppe Conte o nell'interesse del Movimento 5 Stelle. Noi stiamo consegnando ai posteri una riforma. E che riforma è? Andiamola a vedere. Perché noi abbiamo portato dieci progetti di intervento costituzionale per migliorare e superare le varie disfunzioni. Alcune ce ne sono. Però che cosa ci oppone oggi? Che cosa ci porta Giorgia Meloni? Ci porta un premierato che non esiste da nessuna parte del mondo. E poi dice, ma io vi porto così più democrazia. Cari cittadini, voi potete metterla X, scegliete, scegliete chi volete. Ma non è che porti più democrazia in questo modo? Perché anche in Russia votano e votano Putin all'80, plebiscitariamente. Ma non è che c'è democrazia in Russia rispetto a noi. Allora se tu mi fai votare un solo giorno ogni cinque anni per scegliere un nome e concentri tutti i poteri in mano a quel nome, asservendo il Parlamento ovviamente perché deve essere collegato al premier, in più il capo dello Stato diventa un cerimoniere, tu non mi porti più democrazia. La democrazia me la porti, se mi fai partecipare, gli istituti di democrazia diretta, quando ci sono le regi da discutere, i processi decisionali, rafforzi i referendum abrogativi, non se per un giorno mi dici datemi il voto che poi faccio tutto io. E guardi, la dimostrazione, sai qual è? Lo voglio dire qui. Il rischio è che poi ti ritrovi come sta accadendo adesso già, non siamo al premierato. Ma che garanzia ho io che voto Giorgia 1, premier, che mi dice blocco navale e poi invece abbiamo il record degli sbarchi? Che garanzia ho io che voto Giorgia 1 e poi una volta insediata con pieni poteri mi aveva detto che avrebbe messo la tassa sulle banche e poi se la rimangia? Che garanzia ho io che Giorgia 1 si presenta aiuti per la natalità e poi raddoppia le tasse pure sui pannolini? E così via. Quindi non abbiamo nessuna garanzia a dire... Qua sento sullo sfondo la polemica che è arrivata in questi giorni più volte tra lei e l'attuale Presidente del Consiglio sulla questione coerenza. C'è stato uno scambio abbastanza serrato da questo punto di vista. Guardi, sono stati anche certificati. Noi abbiamo fatto dei governi, lei ci contesta di aver fatto governo Conte 1 e Conte 2, ma per quella legislatura il Movimento 5 Stelle si è presentato ai cittadini con un programma chiaro. Ha realizzato nella scorsa legislatura l'80% degli impegni, l'80% mai successo nella storia dalla Repubblica ad oggi, da quando è nata la Repubblica. Nessuna forza politica ha rispettato l'80%. Lei si sta caratterizzando, ripeto, Giorgia 1 e Giorgia 2. E il contrario, le ha acceso sulla benzina, addirittura quando ha detto 1000 euro con un click ha lasciato gli alluvionati ancora con i ritardi, su tutto. Si sta contraddicendo su tutto e poi vorrebbe ovviamente con una qualche capacità comunicativa ribaltare completamente la situazione. Però gli italiani, guardi, c'è un problema concreto. Cioè tu vuoi anche dire agli italiani, guardate, vai a estrapolare alcuni punti e per dire, guardate, le cose vanno bene. Ma gli italiani poi lo toccano con mano tutti i giorni. Qui le banche ridono, ma gli italiani piangono. E anche i dati sull'occupazione, complessivamente, che forse è l'unica cosa macroeconomica di cui il governo si vanta. Andiamoli a vedere. Perché se no non riusciamo a capire la realtà di tutti i giorni delle famiglie e le difficoltà di imprese e famiglie. dietro a quei dati c'è una qualità del lavoro che è peggiorata terribilmente. Noi abbiamo 3 milioni di lavoratori che sono a termine. Part time sta aumentando e viene calcolato nei contratti a tempo indeterminato. Abbiamo un milione ormai di lavoratori a chiamata. Un milione di lavoratori interinali. Abbiamo, sono aumentate, 60 milioni di ore di case s'integrazione nei primi tre mesi. Sì. Allora, 16 punti di perdita del potere reale. Questo spiega perché, alla fine, un dato, stiamo andando verso una precarizzazione, verso una povertà. Qui il problema... Quindi è un dato che non riesce a fotografare... Il dato complessivo. Quindi loro dicono, ma guardate il trend dell'occupazione. Certo, iniziate il 2021, un trend migliorativo complessivamente. Ma andiamo a guardare i dati. Le persone stanno male e lo sanno. Non arrivano a fine mese. Senta, Presidente, ha fatto molto discutere il fatto che lei, credo fosse ieri, ha parlato... Ieri? Si riferisce a Confindustria Giovani? Sì, perché ho detto, ha fatto discutere, quindi è chiaro che sto andando lì. Perché quando lei ha parlato di capitalismo in fetto, c'è stata una reazione durissima dell'ex Presidente di Confindustria, Marcegaglia. L'attuale Presidente Orsini ha detto che, insomma, dentro questa cosa... Non bisogna fare di tutta un'erba un fascio. E infatti io sono attentissimo e non ho fatto affatto di tutta un'erba un fascio. Guardi, io stimo anche la Marcegaglia, di Stefano, il Presidente di Confindustria Giovani. Posso dire che sono sorpreso delle loro reazioni. Perché io sono stato chiarissimo, ho parlato di capitalismo in fetto. E lo rivendico, lo rivendico, attenzione. Perché mi sono riferito al sistema Toti, dove c'è il politico di turno che va a governare, prende il mandato dei cittadini per fare interesse ai cittadini, e si chiudono poi nelle segrete stanze sugli yacht, mettendo da parte i cellulari, per dire all'imprenditore di turno, che già ha un potere economico grande sulla regione, a te che ti serve? Dobbiamo provocare le concessioni? Benissimo, però poi mi firanzi. Allora si creano due cose, per cui tutti gli imprenditori, la stragrande maggioranza che ogni giorno si spaccano la schiena per creare valore aggiunto, per avere una comunità di lavoratrici e lavoratori e portare il benessere alle loro comunità, si dovrebbero indignare come essi indignano, ne sono sicuro. Perché non posso accettare, quella si chiama concorrenza sleale, non è soltanto un illecito, è concorrenza sleale. Perché cosa succede? Che quell'imprenditore che cerca la corsia preferenziale, privilegiata col politico di turno, butta via tutti gli altri imprenditori. Il politico di turno che si accaparra un finanziamento in questo modo ingiustificato e addirittura illecito, ha una concorrenza sleale, esercita sugli altri politici. Noi ci leggiamo sulle micro donazioni, siamo felici di farlo, però lei capisce che non si corre a darmi pari. In molti stanno dicendo basta con questo sistema che poi crea una sorta di situazione di scambio, diciamola così, e è meglio tornare al discorso del finanziamento pubblico dei partiti. Allora guardi, in questo momento molte forze politiche vorrebbero il finanziamento pubblico dei partiti. Io dico ai cittadini perché, vorrei ricordare perché è stato poi abbandonato, perché si è scoperto che con il finanziamento pubblico dei partiti aumentavano i furti ai danni dello Stato, dell'erario pubblico. Cioè lì, voglio dire, c'era ancora più malversazione e corruzione da parte dei politici. Allora noi opponiamo un diverso modello. Fate come noi, come mai noi non abbiamo casi corruzione? Le dico subito, in tre secondi, perché innanzitutto ci basiamo su micro donazioni. I nostri iscritti devono sostenerci e non accettiamo dagli imprenditori che poi ti condizionano macrofinanziamenti. In più abbiamo la regola del doppio mandato, non puoi star lì a coltivare un tuo destino personale. Devi rispettare invece e non puoi diventare un mestiere, perché poi pensi al tuo futuro e non al futuro dei cittadini. E poi ancora non accettiamo trasfughi, acchiappavoti, gente che si presenta con pacchetti di voti, 3.000 voti, 5.000 voti, e stanno sempre lì, si spostano da una parte e dall'altra. Siamo molto rigorosi su questo. Se tutti facessero così potrebbero far come noi, che in tutti questi anni che siamo alle istituzioni, ci siamo tagliati gli stipendi, abbiamo restituito alla collettività 100 milioni, 100 milioni di opere a favore della collettività. Scusi, allora perché invochiamo il finanziamento pubblico? Ecco, invochiamo il finanziamento pubblico perché molti dicono che c'è un altro modo. C'è il nostro modello, condividiamolo. Lei dice condivisione del modello. C'è il nostro modello, condividiamolo. Allora, io in realtà ho sempre chi mi dice quanti minuti mancano, allora vado dritta sulla politica estera, che poi estera non è, perché è quello che ci riguarda direttamente. La sua reazione, lo ricordavo prima, anche con il ministro Salvini alle parole di Stoltenberg e all'ipotesi di uso delle armi fornite dall'Occidente fuori dai confini ucraini, è stata durissima. E lei lo ha fatto in questo studio, ha portato nel vostro logo la parola pace. Però io c'è una cosa che le vorrei chiedere. Ma qual è l'alternativa vera? Eccolo là, vedete, l'ho mostrato fino in anteprima. Esatto, e quindi noi ci stiamo citando da soli. Ma allora, come si fa a convincere la Russia, che è l'aggressore, a mettere la parola fine a questo conflitto? Guardi, perché tutti i trattati di pace nella storia sono stati stipulati con i nemici. Quindi è per forza con i nemici che dobbiamo dialogare. Solo che qui c'è stata la consapevole volontà. Il Foreign Affairs, una rivista autorevole, ha pubblicato documenti inediti che testimoniano come, anche a caldo, all'indomani di questa aggressione, che lo ripetiamo, ingiustificata di Putin, c'è la possibilità. Eravamo a un tanto dalla conclusione di un negoziato a condizioni onorevoli per l'Ucraina. Però i nostri governanti, tutti, a partire ovviamente da Washington, Londra, dove sono le centrali dove si conta di più, ci hanno imposto una strategia militare che prevede l'escalation militare. Stoltenberg, Macron, gli altri, è tutto logico, è tutto conseguente. Se accetti questa strategia e solo questa, devi fare sempre un passo in più. Quindi siamo sull'orlo della Terza Guerra Mondiale, stiamo portando le truppe anche in Ucraina perché mancano i combattenti. Accettiamo adesso di colpire obiettivi militari russi. Se ci avessero ascoltato, tutte quelle energie, quell'investimento, anziché in armi, l'avessimo fatto in sforzi diplomatici e politici, adesso sul tavolo ci sarebbe a tutela degli ucraini, 6 milioni di profughi, migliaia di vittime, 500 miliardi di macerie, e li avremmo tutelati meglio, più efficacemente. E ovviamente sul massacro di Gaza, conoscete la nostra posizione dall'inizio, l'abbiamo denunciato con forza. Io non mi sento rappresentato da un governo che per tre volte all'Assemblea delle Nazioni Unite si è astenuto su queste risoluzioni che potevano contribuire a fermare il massacro. Grazie Presidente Conte. Io di nuovo sono costretta a dire che aprirei qua un dialogo molto lungo, sia sulla questione della Russia, in realtà su Gaza. E io sarei costretto a sostituire il dialogo, a si compiacere e a replicare. Però in realtà vorrei ricordare che proprio queste sono ore in cui ci potrebbe essere, e davvero lo spichiamo, una svolta su Gaza, perché la situazione a Gaza in questo momento è inaccettabile e non si può davvero andare avanti. Migliaia e migliaia di civili, bambini e donne massacrati. Grazie Presidente Conte. In questa bizzarra domenica dovete fare un cambio di scena, esce lei e entra al Ministro Tajani, ma oggi è così. Ma ci saluteremo in modo cortese e assolutamente educato. È dietro di lei e io la ringrazio per essere stato con noi. Grazie Presidente. Ministro Tajani, abbiamo live. Reciproco.